L'Iran mostra al mondo i muscoli, presentando la nuova generazione di missili balistici a corto raggio. Questo missile è costruito, progettato e testato al 100% in patria. Come promesso al nostro caro popolo, non risparmieremo gli sforzi per accrescere le capacità missilistiche del paese e aumenteremo certamente la potenza dei nostri missili ogni giorno, ha detto il ministro della difesa, il generale Amir Atami, aggiungendo che più forti saranno le pressioni e la guerra psicologica contro la grande nazione iraniana, maggiore sarà la nostra volontà di migliorare la potenza difensiva in ogni campo. Il programma missilistico iraniano è un nodo controverso per gli Stati Uniti e le altre potenze globali, ma Teheran lo considera cruciale in chiave difensiva in una regione inquieta. Il presidente Donald Trump, che ha impugnato l'accordo del 2015 sul nucleare iraniano e reintrodotto le sanzioni economiche, chiede un nuovo accordo che limiti la potenza missilistica di Teheran.